SIGLA 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 Grazie per la visione! Peccato! Il nemico ci ha nel mirino! Ci hanno preso di mira! Il nemico è colpito! Ci hanno preso di mira! Pronti a sparare! Peccato! Peccato! Il nemico è la nostra posizione! Il nemico è portata di tiro! Il nemico ci ha nel mirino! L'abbiamo preso! Pronti a sparare! Pronti a sparare! L'abbiamo preso! Il nemico è colpito! Il nemico è colpito! Il nemico è la nostra posizione! Peccato! Buonanotte! Missione compiuta! Ottimo lavoro! Il nemico è la nostra posizione! Grazie per la visione!